ma la salute del carro di rossini dice direi che è discreta rispetto a quello che poteva essere nel senso che le strutture hanno retto benissimo ovviamente si è rovinato un po l'estetica soprattutto la parte dietro quindi la carta pesta ha ceduto in alcuni punti sempre sempre nel retro carro si sono staccati dei pannelli però niente di grave niente di gravissimo abbiamo avuto oggi una riunione con il comune di pesaro loro comunque tengono ad averlo lì fino a dopo pasqua come era stato pattuito lo ripristinano quindi da domani l'associazione carristi andrà con tre persone a ripristinare quello che c'è da ripristinare diciamo il cigno in alto è quello più complicato insomma da sistemare non tanto perché è particolarmente rovinato quanto perché ci vuole una piccola gru per tirarlo per metterlo a terra e lavorarci però insomma ecco insomma non poteva andare molto peggio non è poi così grave insomma diciamo che si ripristina con abbastanza poco il 5 tempo sempre permettendo lo riporteremo lo riporteremo a casa e se ci saranno dei danni ingenti insomma come da contratto lo risistemeremo tramite le assicurazioni o meno insomma comunque ecco se non succede niente grosse cose non ci dovrebbero essere insomma ecco se non ci dovrebbero essere insomma